Mi auguro che il commissario abbia solo una figura di indicazione da parte della segreteria federale e che la volontà del governatore assieme al nostro segretario trovino una loro condivisione. Sarà una decisione che il segretario nazionale Fraviottosi ha dichiarato anche alla stampa, si prende tre o quattro giorni di tempo per decidere, dopodiché è una sua decisione che dovrà assumersi. Aspetta anche lei questa decisione? Beh sicuramente sì, io sono sempre stato rispettoso delle strutture statutari e regolamentari della Lega Nord Liga Veneta, per cui attualmente lui è il mio segretario nazionale, eletto democraticamente con i voti dei militanti nel 2012 e per cui io sono rispettoso degli organismi statutari e regolamentari della Liga Veneta, per cui attualmente il mio segretario è Fraviottosi. Io giovedì prossimo abbiamo il consiglio nazionale, ci sarà anche la presenza, mi auguro, del commissario ad acta o del supervisore come viene chiamato da Salvini, del supervisore e in quella seduta discuteremo come facciamo sempre di politica, discuteremo delle iniziative e si prenderanno anche delle decisioni attinenti alla volontà della maggioranza di quel contesto, segreteria nazionale, cioè regionale, è eletta democraticamente dai militanti.